Siamo qua con Stefano di Bergamo Gomme Questo qua che sta per iniziare il secondo anno insieme a noi dell'Ice Trophy Quali sono le novità di quest'anno e quali sono le migliorie e l'esperienza che hai fatto in questi anni e che stai portando sui campi di gara Ciao, buongiorno a tutti Per me è un piacere ritornare alla seconda, quarta edizione dell'Ice Trophy ma per me la seconda L'esperienza dell'anno scorso ci ha portato a migliorare l'abbinamento pneumatici fiosi Con una novità di quest'anno abbiamo il pneumatico nuovo che si chiama Star Cross 6 Che ha un tassello più alto e più duro, si presta meglio a ricevere i nuovi chiodi col cutter Che abbinati al nuovo pneumatico Miss Man hanno un'abbinata vincente Perfetto e in questi anni quindi anche la chiodatura è un'arte particolare Quindi sei riuscito ad affinarla, a migliorarti Sì, l'anno scorso chiudevamo pneumatici con dei chiodi un po' così random Quest'anno abbiamo una tecnologia nuova, li inseriamo leggermente piegati nel senso di marcia Con la testa del chiodo in modalità trazione che fa un pochino la differenza Piccoli accorgimenti ma che fanno la differenza Benissimo, quindi ci vediamo con te il 7 e l'8 di gennaio per la prima prova dell'Ice Trophy Abbiamo anche una novità commerciale, non c'è più solo l'acquisto dei pneumatici ma anche il noleggio Chi vuol provare una volta sola e senza spendere troppi soldi per dei pneumatici nuovi Li può noleggiare da noi alla mattina e smontare alla sera